L'Europa pro da Orta di Atella, un'iniziativa importante sui fondi europei. Perché avete deciso di svolgerla qua? La risposta potrei intuirla, lei è di Orta, l'altro parlamentare pure è di Orta. Però insomma Orta di Atella è una realtà importante. Certamente, ma al di là del fatto che è un'occasione anche per poterci scambiare gli auguri di Natale. Ma l'Europa non è così lontana come possiamo immaginare e questa realtà di Euroopportunity si occupa proprio di questo, di riavvicinare le istituzioni europee e i cittadini facendo capire come si può accedere ai fondi che arrivano in maniera cospicua qui nelle regioni del sud Italia. E niente, ci faceva piacere quindi ospitare questa realtà, metterla in contatto anche magari con l'amministrazione ortese, oltre che con i cittadini. E quindi approfittiamo di questa serata. Se lei dovesse dare un suggerimento, pure tecnico, burocratico, a chi fosse interessato ai fondi, che cosa direbbe come prima cosa? Vedete, io anche quando ero consigliere comunale, sono stato consigliere comunale qui a Orta di Atella, abbiamo chiesto l'apertura di uno sportello europeo sul comune di Orta di Atella, ma sarebbe utile averlo un po' in tutti i comuni, perché c'è proprio una difficoltà a capire come interfacciarsi con l'Europa, come accedere a questi fondi che potrebbero essere utilizzati per far fronte a tutte quelle esigenze che i comuni hanno e finanzare dei progetti che potrebbero avere un impatto positivo sul territorio dove vengono utilizzati. Sappiamo che sulla finanziaria c'è stata una discussione accesa anche all'interno del movimento, sono volati, si dice, anche schiaffi, lei ha preso qualche schiaffo, qualche ceffune, qualche calcetto? No, in realtà questo è il normale gioco delle parti, c'è stata una forte opposizione da parte delle forze di minoranza, ma alla fine abbiamo ottenuto il nostro risultato, che era l'approvazione di questa manovra, la prima dopo tantissimi anni realmente scritta per i cittadini. All'interno ci sono diverse misure di spesa sociale, differentemente da quello che accadeva prima, non ci sono più le prebende per i grossi gruppi finanziari, le banche, ma abbiamo spostato completamente gli equilibri verso la spesa sociale. Poi avremo nei prossimi mesi modo di avere riscontro delle misure che abbiamo pensato.